Oggi qui a Treia parliamo di sostenibilità e sicurezza alimentare. In queste ultime settimane, in questi ultimi mesi si è parlato molto di questo tema e molti mettono in contrapposizione questi due termini. Da una parte si dice che bisogna produrre di più perché nel mondo c'è più bisogno di cibo, qualcun altro dice che bisogna essere più sostenibili, mettendo in contrapposizione queste due esigenze. In realtà proprio perché sono due esigenze ineludibili devono andare inevitabilmente insieme anche perché produrre di più è necessario perché nel mondo aumenta la domanda alimentare. Ma nello stesso tempo se noi non contrastiamo il cambiamento climatico noi fra qualche anno rischiamo di vedere diminuire la produzione perché il cambiamento climatico, la siccità e le alluvioni portano a una riduzione della produzione. Quindi ecco queste due esigenze, produttività e sostenibilità, sono entrambi necessari e importanti per il futuro del pianeta ma anche per il futuro della nostra alimentazione.